buongiorno a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale youtube per chi non mi conosce io mi chiamo elisa sono sarta e condivido con voi tutto quello che ho imparato del mondo del cucito e tutto quello che ancora devo imparare se vi fa piacere vi lascio un link qua sotto di un video che ho realizzato tempo fa nel quale racconto la mia storia e come sono diventata sarta ma torniamo a noi nei video precedenti abbiamo visto come realizzare il cartamodello della gonna base a tubino e successivamente anche come cucire una gonna tubino foderata con spacco vi ho detto sin dall'inizio e lo sapete che la base di questo cartamodello può essere sviluppato per ottenere tantissimi capi diversi e oggi ne vedremo un esempio anzi due due perché ho intenzione di realizzare una salopetta è vero la tipica salopetta con gonna in jeans ma attenzione perché non è detto che debba essere fatta in jeans perché il tessuto potrebbe fare la differenza quindi vedremo dal cartamodello base come ottenere una gonna molto svasata e successivamente come andare ad aggiungere tutte le parti per ottenere una salopetta durante il video poi vi darò diversi suggerimenti perché chiaramente la parte inferiore della salopetta può essere fatta in diversi modi con diverse gonne ma anche la parte superiore può essere fatta in diversi in diverse maniere con le cinghie squadrata ciò può essere fatta in tanti modi quindi durante il video oltre che è concentrarci sul modello che ho deciso di realizzare vi darò anche suggerimenti in caso vogliate fare un qualcosa di un pochino diverso andiamo a vedere allora come si fa inizio proprio dal cartamodello della gonna base a tubino in questo caso al dietro ma la modifica che dobbiamo andare a fare è identica nel davanti anzi è importante che la svasatura che andremo a fare al dietro sarà la stessa che andremo a fare per davanti quindi andiamo a prendere un pezzo di carta e lo andiamo a posizionare sotto il cartamodello nella nostra gonna potete usare un pezzettino di scotch oppure io uso anche un pochino di colla perché così almeno faccio prima ok e abbiamo aggiunto quindi un pezzettino di carta se vi ricordate dal cartamodello della gonna abbiamo ridotto il fondo di due centimetri stretto il fondo di due centimetri per avere una gonna tubino in questo caso andiamo a lavorare sul cartamodello dritto senza i due centimetri tolti perché per andare a realizzare una gonna leggermente svasata non vi preoccupate che vedremo anche la svasatura ampia dobbiamo andare ad aggiungere sui fianchi della do gonna del davanti e del dietro dai 3 ai 4 centimetri si può anche arrivare a 5 centimetri ma non di più perché altrimenti poi la gonna andrà a fare difetto quindi andiamo a tirare una linea e la colleghiamo più o meno alla linea del fianco non andiamo troppo in alto perché questo punto qua non va toccato e già in questo modo abbiamo una gonna leggermente svasata se vogliamo invece una svasatura bella ampia allora dobbiamo andare a lavorare sulle pens sia nel davanti che nel dietro a partire dalla pens fino al fondo andremo a tracciare una linea mi raccomando che sia bella perpendicolare al fondo che parte da qui e arriva in fondo qua deve essere un angolo retto a 90 gradi vado a tagliare la parte in eccesso della carta che abbiamo aggiunto prima al lato del fianco e vado a tagliare la mia linea dal fondo fino a un millimetro prima della punta della pensa fatto questo andando a chiudere poco o meno la pensa possiamo decidere quanto rendere svasata la nostra gonna nel mio caso io decido di chiudere completamente la pensa e dare una bella svasatura già così ottenete una gonna svasata che non è ovviamente una gonna a un quarto di ruota diciamo però vi permette di comunque di ottenere un risultato molto morbido dipende tanto dalla tipo di tessuto che andrete a scegliere se sceglierete un tessuto rigido o comunque un jeans pesante potrebbe rimanere proprio aperta a campana mentre se sceglierete un tessuto scivoloso andrà appoggiare sui fianchi ma cadrà bella bella morbida tenete in considerazione che io ho deciso di mostrarvi questo sviluppo per andare a fare appunto la mia salopette ma potete tranquillamente fare lo stesso lavoro ovvero la salopette con mantenendo la gonna a tubino è molto femminile molto bella la salopette con gonna tubino oppure potete realizzare la parte inferiore con una gonna un quarto di ruota a mezza ruota a ruota tutto dipende dai vostri gusti chiaro che si si può utilizzare si può realizzare la parte sotto anche col pantalone ma è un cartamodello a parte quindi non rientra in questo progetto ma torniamo al nostro cartamodello perché una volta arrivati a questo punto chiaramente dovremo appoggiarlo sopra un altro pezzo di carta dovremo andare a riprenderne in contorni e dobbiamo andare a ritracciare il fondo in questo caso il nostro fondo sarà leggermente stondato è normale perché poi una volta indossata questa parte qua tenderà a scendere e deve andare a pareggiare con questa parte quindi il fondo sarà stondato ora posso lavorare sulla parte superiore allora per prima cosa io voglio desidero una gonna una salopetta con un punto vita ben definito quindi aggiungerò la mia gonna il cinturino nel mio caso sarà alto 4 centimetri che andrà poi messo nel doppio della stoffa ma questo lo vedremo durante la confezione sarà alto 4 cm e sarà chiaramente lungo quanto la circonferenza della vita della mia gonna a tutto ciò ovviamente andrò poi ad aggiungere i margini di cucitura per la parte superiore sia del davanti che del dietro abbiamo tantissime possibilità perché sappiamo che la salopetta può essere realizzata in molti modi diversi addirittura si possono realizzare semplicemente le bratelle e lasciarle così io preferisco realizzarla con la pettorina possiamo chiamarla così e quindi per realizzarla con la pettorina pettorina dovremo andare a disegnare un rettangolo nel frattempo sono andata a rifare i miei disegni per avere un foglio più pulito lo so non sono molto brava in questo ma pazienza non sono molto brava a disegnare ci tengo a precisare anche che la nostra pettorina è una pettorina anatomica ovvero non ha pensa non ha forme particolari nel caso vogliate ad esempio una pettorina con lo scollo a cuore e con le pens che resti molto aderente al corpo in quel caso allora il cartamodello va realizzato partendo dal cartamodello del corpino base con pens in questo caso invece possiamo realizzarlo secondo i nostri gusti quindi iniziamo a disegnare due linee perpendicolari io ho messo delle letterine casuali semplicemente per farvi capire la linea a b avrà come misura l'altezza della nostra pettorina dal punto vita fino a sopra il seno o al punto desiderato questa misura dovete vedere voi a vostro gusto come prenderla la linea invece a c sarà la misura della nostra linea vita del cartamodello del davanti meno 10 cm chiudo il mio rettangolo e segno la lettera d e siccome non voglio che la mia pettorina sia proprio rettangolare ma voglio dargli una forma un po inclinata come nel caso del disegno dalla lettera d mi raccomando questa qua a b sarà il nostro centro davanti e andrà su ripiegatura dalla stoffa dalla linea d che sarà la parte alta della nostra pettorina esco di 45 centimetri provatevela indosso e vedete fin dove volete la larghezza quindi esco dal punto di nel mio caso di 5 centimetri e tiro la nuova linea che va a ricollegarsi con il punto c questa sarà la mia pettorina dal davanti che avrà quindi centro davanti vita e fianco al dietro decido di dare invece la tipica forma della salopetta nel dietro quindi anche in questo caso traccio due linee perpendicolari mettiamo la letterina anche in questo caso letterina b e le letterina c la linea a c sarà come quella del davanti di lunghezza pari alla linea vita del cartamodello del dietro meno dieci centimetri l'altezza la linea a b quindi l'altezza della nostra pettorina dietro sarà circa 20 centimetri anche questo dipende dalla vostra lunghezza schiena potete farla arrivare più o meno metà schiena o un pochino di più su rispetto ai vostri gusti normalmente io direi che 15 20 centimetri possono andar bene la parte alta come vedete dal disegno io voglio che la larghezza della pettorina nella parte alta sia esattamente uguale alla larghezza delle due bretelle messe una vicino o incrociata all'altra quindi io decido che le mie bretelle saranno larghe 4 centimetri quindi di conseguenza la linea della pettorina superiore sarà 4 centimetri e segno il mio punto d dal punto d quindi semplicemente andrò a tracciare la mia diagonale fino al punto c anche in questo caso segnerò che questo è il punto vita che questo è il centro dietro anche in questo caso andrà in ripiegatura della stoffa e che questo qua è il fianco qua andranno cucite poi cucita poi la nostra bretella una sul lato destro del centro dietro e una chiaramente sarà sul lato sinistro del centro dietro perché la nostra pettorina intera sarà più o meno così anche la lunghezza della bretella dipenderà ovviamente dalla vostra lunghezza schiena vita davanti e dalle altezze delle pettorine che avete realizzato ma non c'è problema perché potete semplicemente realizzare una bella striscia lunga che sia sufficiente a partire da dietro fino ad arrivare davanti anche più lunga perché la pettorina le bratelle dietro andranno fissate mentre davanti ci sarà la possibilità di abbottonatura o sbottonatura quindi comunque anche nel caso in cui vogliate metterle fisse con un bottone quindi non dare possibilità di sganciarsi diciamo potete comunque prendere la misura direttamente quando finite il lavoro in conclusione per ottenere questa salopetta le parti saranno davanti e dietro della gonna sbasata modificata partendo dal cartamodello della gonna base il cinturino la pettorina davanti la pettorina dietro e le nostre bretelle andremo poi a mettere una cerniera lampo nel fianco nel prossimo video tutorial vedremo insieme come confezionare questa salopetta quindi se volete vederla indossata iscrivetevi alla mia pagina e mettete mi piace ci vediamo prestissimo per il video di confezione ciao